Quanto è simpatico lei, mi diverte troppo, mi piacerebbe averla come amico, proprio come per dire delle cose serie e delle cazzate. Sì, altro che l'occhio della tigre, qui è l'occhio dell'agenzia delle entrate, che dovrebbe essere un pochino più attento. Mi pare che abbia perso di vista un po' qualche situazione nel bergamasco. Perso di vista non è male. Ecco, un'altra freddura come quella dell'altro giorno sull'Inps. Eh sì, perché l'Inps manda in pensione il PIN dispositivo. Ve l'abbiamo detto, ma ve lo ripetiamo, perché ci piace ripetere questa freddura. Dal primo di ottobre l'Inps non rilascia più il PIN dispositivo. Contratto da comica è pronto, vado a lavorare con Leonardo Manera. Ma prego, agevoliamo la notizia del giorno. Guarda, con il cuore un pochino a pezzi, perché sai che quando ci sono questi eventi il mio cuore, come dire, normativo, tributario è addolorato. Allora, hanno pizzicato, cioè hanno finalmente visto. Esatto, hanno finalmente pizzicato, sottolineerei. Un ottico che per 16 anni però si spacciava per oculista e già fin qui ci sarebbero ennereati. Comunque va bene, oltre 2000 visite a 600 e 600 pazienti. Ma qui viene, diciamo, il clou senza rilasciare fattura. No, aspetta, lui rilasciava tanto di diagnosi, ricette per farmaci, prescriveva esami specialistici e l'onorario previsto per ogni prestazione era un po' flat. 50 euro a visita, qualunque cosa dovesse fare valeva 50 euro. Sì, ma la notizia viene precisata così. 50 euro a visita rigorosamente, mi verrebbe da dire religiosamente, come le pagine di norme e tributi, religiosamente senza fattura. Ecco, però finalmente la guardia di finanza si è messa gli occhiali, quella di Bergamo, e ha bussato alla sua porta. Ma signore, mi scusi, lei ha intenzione di continuare così oppure vogliamo metterci in regola? Dunque, risulterebbe che tra il 2004 e il 2020 questo signore avrebbe fatto oltre 2000 visite. I pazienti calcolati sono 632 e dal 2008 non risultano a suo carico dichiarazioni dei redditi. Allora, va bene la sua scelta di mantenersi anonimo agli occhi del fisco, ma quello che ci stavamo chiedendo con Mauro Meazza prima della partenza della nostra diretta è ma tra queste 2000 persone che lui ha potuto, no, più di 600 pazienti che ha potuto visitare in queste 2000 visite, ma non ce n'era uno che gli ha chiesto la fattura, che si è insospettito di questo comportamento, che avesse un'assicurazione privata con la quale appunto dovesse interagire per scaricare l'importo della visita oculistica? E' strano. Insomma, il sistema della connivenza è curioso. Bisognerebbe, trattandosi di un oculista, vederci chiaro, anzi di un finto oculista. E' proprio vero, come ha detto l'ascoltatore, che sei simpatico, perché lui vorrebbe tanto come amico, ma sei solo amico mio, qua non ti cedo volentieri. Lo ringrazio molto e rassicuro a tutti, non è un parente, quindi non l'ho fatto per lucrare magari, chissà, un aumento di stipendi o qualche particolare prebenda qui nel gruppo 24 Ore. Di che parliamo oggi? Di bello? È mercoledì, non te lo ricordi? Caspita, è vero, come dimenticarmelo? Oggi parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro con l'ausilio degli specialisti di INAP. Nella prima parte faremo un punto invece sul lavoro dei giovani quando tentano di mettere un piede in azienda attraverso la modalità del tirocinio dello stagio, ma anche gli stagio stanno crollando nel nostro paese. Ha fatto una ricognizione alla Repubblica degli Stagisti e ve la racconteremo. Per quello che riguarda invece l'indagine INAP che vi presentiamo oggi, parliamo un po' delle difficoltà che hanno attanagliato tutte le famiglie italiane durante i mesi di lockdown, sapete, uomini e donne, lavoratori e lavoratrici che hanno dovuto praticare il regime dello smart working con un poche difficoltà. Ma l'INAP che cosa ha scoperto? Il rientro al lavoro come è stato per queste persone? È stato diciamo un po' a discapito, cioè sono riemerse le questioni di genere che sono note e sembrano addirittura essersi un pochino riacuite, verrebbe da dire. Ma presentiamo in anteprima una ricerca, quindi se volete poi interagire con noi, i numeri di telefono sono quelli abituali. Oggi, come vi abbiamo detto, parliamo di lavoro in diverse accezioni, 800 24 00 24 è il nostro numero verde, 349 238 6666 è il numero per inviare sms o whatsapp. Dall'altra parte del vetro, vigili e attenti come sempre, Claudia Schiattone e davanti a Claudia, proprio al di là, al di là immediato del vetro e davanti a questa panoplia di tasti e tastini, Gianmarco Ferronato che rende possibile questo miracolo, le nostre voci che vi arrivano in diretta. Abbiamo un GRR, un giornalino radio del risparmio? Ma non solo ce l'abbiamo, parte con una notizia che ti piacerà quasi quanto quella dell'oculista invisibile al fisco. Quella no, non mi è piaciuta. Aveva il mantello di Harry Potter, quello che rende invisibili. Via. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Tu mi stai dicendo che io devo aprire l'Atlante Geografico, come quello del lavoro di Inap della settimana scorsa, e non trovo più le isole Cayman? Ma stiamo scherzando? No, 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 allora aspetta, devi sapere, ci sono tante liste nere, tante, insomma, più liste nere dal punto di vista del fisco. C'è la lista nera nazionale della nostra agenzia delle entrate, c'è la lista nera dell'Unione Europea, c'è la lista nera che fa l'Ocse. Poi a volte, per darsi un tono, si dice che sono black list, però la sostanza è la stessa. Allora, che cosa è successo? Che la Unione Europea ha deciso che le isole Cayman, che sono tradizionalmente considerate paradiso fiscale, direi quasi per antonomasia, sono un arcipelago nel Mar dei Caraibi, ecco, non saranno più nella black list dell'Unione Europea, quindi non saranno più fiscalmente non cooperative, questo è il giudizio che si dà. Cioè, insomma, se tu chiedi, ma per caso quel finto oculista di cui si parlava, non è che aveva dei soldini da voi? Ecco, le Cayman ti rispondono, dice l'Unione Europea, adesso ti rispondono, sono diventati più cooperativi. Invece, invece, hanno detto, sempre il Consiglio dell'Unione ha detto, invece, Anguilla e Barbados, che erano nella lista nera, ne erano uscite perché si erano mostrate cooperative, adesso ci rientrano perché non si sono comportate bene. Quindi, di nuovo, dietro la lavagna, verrebbe da dire, ovviamente, una lavagna nera. Tutti particolari, naturalmente, in cronaca sul Sole 24 ore di oggi, tra l'altro. Allora, invece, volevo raccontarti che l'Inps segnala un nuovo, l'ennesimo tentativo di truffa tramite mail a sua firma e quindi, ieri, con una comunicazione, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha voluto avvisare tutti i suoi utenti di fare attenzione a questa nuova mail di phishing che utilizza il nome Inps per ingannare i destinatari, appunto, del messaggio. E indurli ad aprire questo file allegato che contiene un agente virale. Quindi, fate molta attenzione se vi arriva una comunicazione Inps che, come dire, vi puzza un po', che può essere un po' anomala. L'oggetto dell'email, come il nome dell'allegato, precisa proprio l'Inps in questa nota che richiamavo poco fa, può variare. Per cui, si invita a diffidare di queste comunicazioni ignorando mail di cui non è possibile accertare l'origine. Non aprite allegati dei quali non avete certezza, appunto, della provenienza. Cashless, smartphone, pagamenti veloci. Ci sono delle belle notizie. Ma sai che dovremmo forse trovare anche dei termini nazionali, perché siamo stati più reattivi del resto del mondo, noi in Italia. Vabbè, cashless, meno contante, senza contante, non utilizziamo il contante. Smartphone è il telefonino, però quello di ultima generazione, quello che ti fa fare tante cose, ti fa anche vedere, che so, l'internet, anche sentire i podcast di Radio 24, vai sul sito www.radio24.it oppure ti scarichi la app e così puoi sentire due di denari, pure non in diretta ma in differita. Ed è gratuito, pensate. È incredibile tutto questo, ma l'annetto di tutta questa generosità, la notizia, e ce l'ha fornita oggi Pierangelo Soldavini, dalle pagine Sole 24 Ore, che l'Italia è andata meglio degli altri paesi, perché durante l'emergenza della pandemia, il lockdown, le quarantene e così via in tutti i paesi, c'è stata una gelata anche sui pagamenti digitali. I pagamenti digitali sono crollati del 22% nei primi sei mesi del 2020, lo dice McKinsey. In Italia, invece, le transazioni digitali sono sì calate, ma del 6,3%, quindi un calo che è addirittura inferiore al calo che abbiamo registrato per i consumi. Quindi, in un certo senso, c'è un aumento di interesse, di curiosità, di utilizzo, tale che ha frenato la caduta. Allora, senti, ieri, come sai, dal Senato c'è stato il via libera al decreto agosto. Ci sono tante misure dentro, tante riguardano anche il mondo del lavoro, magari adesso pescando di fiori in fiori, come dice Mauro, ve ne daremo alcuna, ma a me ha colpito questa e io vorrei che tu, Mauro, me la spiegassi un po'. Perché questo provvedimento ha autorizzato le vendite in liquidazione per tutti gli esercizi non alimentari che abbiano scorte da smaltire a causa del lockdown. Sappiamo che tanti negozi sono stati chiusi, l'abbigliamento, anzi l'abbigliamento poi ad un certo punto ha potuto anche riaprire, soprattutto quello per bambini, ti ricorderai, non è stata una delle prime misure. E però, insomma, tanti sono stati chiusi e quindi ci sono tante eccedenze da smaltire. E allora, queste scorte da smaltire, che si sono arricchite durante il lockdown, potranno durare, potranno essere rimesse in vendita, appunto con queste vendite in liquidazione, vendite in liquidazione che potranno durare sei settimane e dovranno partire entro 60 giorni dalla fine dello stato di emergenza. Allora, lo stato di emergenza è stato prorogato fino alla fine di gennaio e quindi questi si devono tenere ancora a ste scorte fino alla fine di gennaio. Ma che significato ha questo provvedimento dentro il decreto agosto? E ma probabilmente questo è stato scritto prima della previsione di allungamento dello stato di emergenza e quindi l'idea era di arrivare nelle giornate di dicembre. Perfetto, quindi a gennaio, da gennaio in avanti potremo comprare gran maglioni di cashmere insieme al costume per andare in bagno, perché questi intanto avranno un accumulo di roba che non finisce più, poveracci. Ma no, ma aspettiamo, Deborah, io te lo dico sempre, aspettiamo la gazzetta ufficiale, perché il pasticcio potrebbe anche essere superiore a quello che stai dicendo tu. Quindi quando arriviamo con un testo definitivo in gazzetta ufficiale, poi lì vedremo bene quando e come si potranno mettere in vendita queste scorte, queste giacenze che sono residuate dal periodo della quarantena. Esatto, che sono diventate delle montagne. A proposito di pasticcetti, raccontiamo l'ultimo. Questo tanto si verifica ogni anno, è una grande tradizione, un evergreen, una grande certezza per noi tutti e c'è la consulta dei CAF che si lamenta che non ha più soldi per andare avanti e quindi se tu ci dovessi andare domattina per farti rilasciare il tuo ISEE, non so se te lo possono fare. Sì, perché come segnaliamo tutti gli anni, e i CAF poi lo segnalano spesso anche qui a due di denari, le mansioni da svolgere aumentano. Ad esempio gli ISEE, le certificazioni ISEE, ma poi le dichiarazioni dei redditi, le varie dichiarazioni, i vari ausili che possono venire dai centri di assistenza fiscale aumentano di anno in anno ed ecco che i CAF lamentano che non ci sono sufficienti risorse. E allora anche quest'anno segnalano che dal 9 ottobre di fatto finirebbero i fondi. Uso il condizionale perché poi di solito in extremis arriva qualche correzione e tutto prosegue fino al prossimo anno. Senti, prima del nostro sportello reclami devo leggerti questo messaggio su WhatsApp. Magari trovassi qui all'Ecco un oculista che fa la visita a 50 euro senza ricevuta. La visita qua costa minimo 120 euro, immagino senza ricevuta lo stesso, ma mannaggia. Vabbè, dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Vabbè, vi racconto la mia esperienza. Mio papà ha richiesto mesi fa, un anno fa, circa un fido pensionato. Gli l'hanno concesso solo se faceva un'assicurazione vita che si chiama protezione conto. E l'ha fatta, 18 euro all'anno. Mio papà il giugno è mancato. Ora abbiamo richiesto all'assicurazione di coprire il fido, 3000 euro. Ci hanno risposto che l'assicurazione copriva solo se il contraente avesse avuto un infortunio. Ma mio padre era pensionato. Perché la banca gli ha fatto un'assicurazione in fortuni e non sulla vita? Ora, essendo noi eredi, dobbiamo pagare questo fido. Secondo me è una truffa. Di Chiere da Torino. E infatti l'antitrust ogni tanto interviene multando le compagnie, le banche o le finanziarie che erogano prestiti e ci agganciano anche delle formule assicurative che non hanno nessuna pertinenza con il finanziamento erogato. L'ultimo in ordine di tempo è stata la multa inflitta dall'antitrust a Compass proprio per aver fatto esattamente quello che ha raccontato l'ascoltatore. Per cui fate attenzione. Se la banca vi dice intanto che l'assicurazione è obbligatoria rispetto al finanziamento sappiate che non lo è. Una garanzia per voi, certamente anche una garanzia per la banca che si tutela dall'eventuale insolvenza del contraente, però non è obbligatorio. Andate a vedere bene nel dettaglio che cosa vi propongono. E quali sono le coperture e le garanzie che vengono coperte. perché in questo caso veramente sembra un caso proprio di mala attribuzione. Quindi o chi ha proposto l'assicurazione non si è spiegato e quindi non l'ha fatto capire o proprio non si voleva spiegare, verrebbe da dire. Spiace perché purtroppo poi queste cose aumentano la diffidenza di cui abbiamo parlato ieri nella nostra puntata di Alfabeto del Risparmio che potete ritrovare, guarda un po', sempre sul sito di Radio 24 nella nostra sezione. Apriamo con il lavoro e sentiamo un po' come se la passano i ragazzi. Non se la passano tanto bene, soprattutto quelli che avrebbero l'ambizione di cominciare a mettere un piedino in un'azienda, magari attraverso la formula del tirocini e dello stagio, ma il lockdown ha messo in seria difficoltà anche questo istituto, questo strumento. Come ci racconta l'amica Leonora Voltolina, fondatrice e direttrice della testata giornalistica online RepubblicaDegliStagisti.it Eleonora, buongiorno e bentrovata. Buongiorno e buongiorno a tutti. Che cosa hai scoperto? Allora, noi abbiamo scoperto che gli stagio nel 2020 sono crollati, si sono letteralmente dimezzate le opportunità a disposizione dei giovani per mettere il primo piedino, come dicevi tu Deborah, nel mondo del lavoro. Il crollo è particolarmente significativo perché ci sono dei dati appunto che vanno a confermare quello che non poteva essere altrimenti, verrebbe da dire, calo della produzione industriale, calo dei consumi, calo delle opportunità anche formative, perché poi di questo stiamo parlando, è così Voltolina? Esattamente, diciamo che la notizia appunto non sorprende, ma fa impressione vederla confermata dai dati ufficiali che noi della RepubblicaDegliStagisti siamo riusciti a ottenere dal Ministero del Lavoro. Quindi, veramente, il calo è stato del farlo, però per questo stiamo parlando dei dati... Eleonora, aspetta lì perché ti sentiamo malissimo, magari posiziona un po' meglio, se possibile, la bocca vicino al telefono. Siete bene? Mi sentite bene adesso? No, aspetta lì, perdiamo un po' di tempo noi adesso e ti richiamiamo. I numeri li possiamo anticipare, intanto che richiamiamo Eleonora Voltolina. Allora, il calo nel primo semestre del 2020 di stage, meno 48%, i numeri effettivi sono 96.376 stage nel 2020 contro, stesso periodo del 2019, 185.152. Quindi, effettivamente, un dimezzamento delle opportunità di formazione, di completare la formazione che gli stage riescono a garantire. Credo che la telefonata si stia ripristinando con difficoltà, adesso non riusciamo a capire per quale motivo appunto non ha una buona qualità. Questo però è un peccato, parlavamo del piedino per entrare in azienda. Già spesso commentiamo tutte quelle modalità che possono essere utilizzate nel rapporto fra imprese, naturalmente giovani e generazioni, per fare le prime esperienze formative, stage, tirogini, staffette generazionali, apprendistato. Mauro, questo naturalmente è un peccato, ma d'altronde non potevamo forse aspettarci niente di diverso per come è andato il mercato del lavoro con le aziende che hanno dovuto fare i conti con questa pandemia, una crisi micidiale senza alcun precedente. È chiaro che magari l'ultimo pensiero è quello di dare un'opportunità ai giovani. Eleonora, abbiamo menato il camperlaia. Nel frattempo, appunto, adesso ti sentiamo molto meglio. Abbiamo fatto noi il raffronto fra i numeri attuali e lo stesso periodo di tempo dello scorso anno registrando questo dimezzamento meno 48%. Dal punto di vista delle aziende che sono state più in difficoltà ad accogliere ragazzi con questa formula, avete fatto una ricognizione anche su questo, una ricognizione qualitativa, diciamo? Esattamente. Noi siamo riusciti anche a dare una fotografia più dettagliata. il maggior calo si è verificato nel settore degli alberghi e dei ristoranti. E questo ovviamente riguarda anche il fatto che sono stati chiusi i trasporti, sono state chiuse le attività turistiche e quindi tutto il settore ricettivo turistico ha subito veramente un forte impatto. A sorpresa, invece, la pubblica amministrazione, quindi gli stage nell'istruzione, negli uffici pubblici, sono quelli che sono diminuiti di meno. Però io penso che questo abbia anche a che fare col fatto che in questo grande gruppo di attività ci sono anche gli ospedali e i laboratori di analisi cliniche. Però insomma il pubblico ha tamponato le difficoltà del privato. Un pochino. Poi altri dati interessanti sono che a livello anagrafico questo calo è, tra virgolette, democratico. Cioè non c'è un calo maggiore tra le opportunità per i giovanissimi oppure per i giovani oppure per i più grandi. Però noi pensiamo che sia interessante far notare che c'è un piccolo calo dell'opportunità per le donne, quindi per le stagiste femmine, e invece un 4% in meno di opportunità per le donne di fare stage e un 4% in più per gli uomini. Ora siccome il tirocino è sempre stato uno strumento che è riuscito a sfuggire a quelle discriminazioni di genere che invece affliggono il resto del mercato del lavoro e quindi anche un po' a sorpresa negli anni noi abbiamo verificato che le opportunità per i stagisti erano giuste e giuste sempre al 50 e 50 oppure 49 e 51. Cioè c'era veramente una pari opportunità per i giovani di accedere al mondo dello stage. Mentre io penso che questi dati che sono particolarmente evidenti nel secondo trimestre, quindi tra aprile e giugno, ci debbano fare stare sull'allerta. Assolutamente. Eleonora, devo interromperti perché abbiamo la seconda parte della trasmissione che preme alla porta e quindi però volevamo ringraziarti perché ci hai dato un assist perfetto proprio per la seconda parte del programma. Perché parleremo infatti di conciliazione vita-lavoro. Io ricordo, in chiusura di questo collegamento con Eleonora Voltolina, che è fondatrice e direttrice della testata giornalistica online Repubblica degli Stagisti, sul loro sito www.repubblica-degli-stagisti.it c'è anche una interessantissima mappa italiana che fa vedere dove i tirocini sono calati di più regione per regione. Quindi fate un giretto anche sul sito. Grazie Eleonora Voltolina. Grazie, promettiamo di tornarci. Mi giro un attimo se non ti dispiace. Esatto, concentrati perché è il momento delle borse. I soldi sotto il materasso e basta! Stress da vita complicata? Ansiolev, l'alternativa della natura. Ansiolev, l'integratore alimentare di Specchiasol per ridurre la tensione e ritrovare calma e serenità. Chiedi Ansiolev in compresse e gocce presso la tua farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Ansiolev, ritrovi la calma. Gli abbiamo dato tanto, troppo, tutto. Tutto sì, ma non Credit Reforma. Il gruppo Credit Reforma, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Grefo Zert, il certificato rilasciato da Credit Reforma, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800-425-325 o creditreforma.it. I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini. Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, Zack, ma ne leggi i giornali. Impianti strani, incendi, manette. Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisist. Sì, ma cos'hanno in più? Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camioni, quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisist. Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisist.it Ora. È ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it La tua impresa vanta dei crediti IVA, IRS o IRAP e ha necessità di reperire liquidità da destinare allo sviluppo del proprio business? Il gruppo B-Finance propone alle aziende la possibilità di cedere prosoluto i crediti fiscali, così da ottenere in tempi brevi e certi risorse finanziarie da investire nella propria attività. Contattaci allo 06 94 81 69 05 o visita il sito B-Finance.it. Per i tuoi crediti tributari affidati alla professionalità. Scegli B-Finance. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra le domande sul futuro del tuo vecchio veicolo. Prevedo cicoli inattesi, interventi costosi e tanta manutenzione. A destra il tuo futuro con Crafter. Garanzia. Tanta serenità. Cinque anni. Il futuro è sereno con Volkswagen Veicoli Commerciali. Scegli Crafter. A ottobre fino a 11.500 euro di vantaggi, inclusa la garanzia estesa fino a 5 anni e 200.000 chilometri e grazie al contributo delle concessionarie per i veicoli in pronta consegna. Scopri di più su Volkswagen Veicoli Commerciali.it. Fineco. È tempo di investire con noi. Vi presenta... Bors in diretta. Borse deboli in Europa questa mattina, sulla scia di Wall Street, che ieri ha avuto un calo soprattutto concentrato sul finale di seduta, dopo che Donald Trump ha annunciato, ancora una volta su Twitter, la fine delle negoziazioni fra repubblicani e democratici sul nuovo piano di aiuti per sostenere l'economia. Trump ha detto, ne riparleremo dopo le elezioni, auspicando naturalmente che l'elettorato americano gli confermi ancora una volta un mandato, ma in ogni caso questa prospettiva al mercato non è piaciuta. Abbiamo Parigi in ribasso dello 0,08%, Francoforte meno 0,20%, Londra meno 0,19%, Milano meno 0,16%, Piazza Affari oggi i titoli con i rialzi più sostenuti, Enel più due punti e mezzo, Prismian più 0,9%, Interpamp e Ferrari più 0,85%, Nexi meno 4%, confermata l'operazione di integrazione con SIA e i fondi tra i principali azionisti con un'operazione di private placement e mettono sul mercato appunto dei consistenti pacchetti azionari. Saipem è meno 2,84% e torna a scivolare nel terzo giorno di aumento di capitale B per banca, meno 2,8%. Spread BTP e Bund sui nuovi minimi, 127 punti, i mercati tornano tra un'ora, adesso noi ritorniamo con due di Denali. Sono Lord Green, insegnante madre guida inglese. Indossate i guanti per l'interno in pelle color cuoio, lucidate la livrea verde British Green solo con panni di tweed e ricordate che i fari full led possono intimidire i cervi della tenuta. Smart Q42 British Green, auto nobile. Scopri la nuova limited edition e guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio di Mercedes-Benz tutto incluso, anche la Wallbox. Hai sentito? Ne parlano tutti i giornali. Recentemente alcune imprese italiane hanno subito dei gravi attacchi informatici. L'ho saputo. Pensa che in Italia c'è il rischio di un attacco informatico ogni 5 ore. Io mi affido alla consulenza di San Marco Informatica che mi segue da sempre. Fallo anche tu. Scopri il livello di sicurezza della tua azienda. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com Da MediaWorld si aspetta il sottocosto. Tantissime offerte spettacolari sulla migliore tecnologia. Smart TV Samsung 65 pollici 4K a soli 579 euro. Disponibili 1500 pezzi fino all'11 ottobre in negozio online. MediaWorld, fatto apposta per me. Osserviamo la specie delle ristorature nel suo habitat digitale. Il locale senza pareti. Notiamo come serve i suoi clienti ovunque si trovino. Grazie a Vodafone Business, infatti, ha sviluppato nuove abitudini. Come la gestione digitale delle ordinazioni, sia al tavolo, sia per il delivery. Il tuo lavoro digitale. Le nostre soluzioni per arrivare ovunque. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vai su voda.it slash locale digitale. Ready? Rinnovabili, decarbonizzazione, mitigazione, global warning, biomasse. Cambia il clima e cambiano le parole. Quello che non cambia è la necessità di farsi capire anche dalle nuove generazioni. Come fare? Ve lo spiega Federico Taddia con Terra in Vista, la sostenibilità spiegata a mio figlio. Ogni sabato, all'interno del programma, si può fare insieme a Laura Bettini. Giovani e adulti, per un pianeta sostenibile. Se si può fare, perché non farlo? Terra in Vista, la sostenibilità spiegata a mio figlio. Ogni sabato alle 9.45. Su Radio 24. In collaborazione con Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. Due di denari Parliamo di lavoro con Inap Parliamo di lavoro con Inap come ogni mercoledì ormai, perché è un appuntamento che già abbiamo presentato in diverse occasioni. Quest'oggi parliamo di conciliazione vita-lavoro. Devo dire che, come ha segnalato Deborah prima dell'aggiornamento dai mercati finanziari, la prima parte della trasmissione ci ha dato un assist fantastico. Non l'avevamo preparato, ma forse se l'avessimo preparato non sarebbe uscito così bene, viene da dire. Perché? Perché Eleonora Voltolina della Repubblica degli Stegisti ci ha detto guardate, per la prima volta vediamo un disallineamento tra tirocini per ragazze che calano, calano del 4%, tirocini per ragazzi che invece aumentano. Quindi in un crollo generalizzato dei tirocini, però si sono difesi meglio, viene da dire, quelli destinati ai maschietti, meno gli altri. Siccome parliamo di conciliazione vita-lavoro, Ai tempi del Covid. E ai tempi del Covid è appena finita la quarantena, perché abbiamo l'opportunità di presentare in anteprima, cara Deborah, ben due ricerche che si stanno ultimando proprio in sede all'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Allora, sottoponiamo questo dato subito a due esperti. In particolare, do il benvenuto a Valentina Cardinali, ricercatrice INAP, che è responsabile del gruppo di ricerca prospettiva di genere nel mercato del lavoro e nelle politiche pubbliche. Quindi diciamo che più in tema di così non riuscivamo, dottoressa Cardinali. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, la vostra ricerca sta analizzando, perché ancora non è ultimata, credo che sarà ultimata per la fine del mese di ottobre, giusto? Sì, grazie. La vostra ricerca sta analizzando che cosa è successo. Quando, diciamo così, ci hanno liberati dal lockdown, quando è finita la quarantena, il confinamento obbligatorio, e siamo tornati, magari parzialmente, magari non tutti, al lavoro, ai posti di lavoro. Cos'è successo dal punto di vista della conciliazione vita-lavoro, delle questioni di genere, donne, uomini? Come sono andati i meccanismi? Che cosa sta emergendo? Sì, dunque, è un periodo questo abbastanza delicato. Abbiamo voluto posizionare la ricerca proprio nel periodo più difficile, quando parte qualcosa che si sa dove inizia e non si sa dove va finire, sostanzialmente. La fine del lockdown e la ripresa di un qualcosa che non è un ritorno alla normalità, è un qualcosa che, come vediamo, tutti i giorni si sta costruendo e va avanti di decreto in decreto. È una fase complessa, è una nuova fase di convivenza sociale, è una ripresa di attività produttiva, ma c'è anche una riorganizzazione della vita sociale da tenere in conto. Per cui, come ogni processo sociale, questa fase non è neutra. Ha ricadute diverse su uomini e donne, un po' come tutti i processi sociali, per come sono vissuti, interpretati e ricevuti dalle diverse categorie di destinatari. Ma in questo momento è particolarmente importante adottare quello che l'Unione Europea chiama gender assessment, cioè mettere l'elentico del genere, cioè guardare i fenomeni, guardando a che ricadute hanno su uomini e su donne, perché è questo il momento di costruire politiche just in time, cioè soluzioni, valutazioni. Insomma, è una situazione abbastanza dinamica che va osservata e tamponata per quanto possibile. Quindi noi inserendo la ricerca proprio in questo preciso momento di riavvio di qualcosa, andiamo a leggere i cambiamenti. E come giustamente anticipava lei, su uomini e donne, la situazione è in realtà assolutamente diversa. Che cosa accade? Diciamo che questa è una ricerca ovviamente di carattere qualitativo, è stata rivolta a uomini e donne di più di 18 anni, occupati sia dipendenti che autonomi e indipendenti, online, secondo la modalità codificata, praticamente in questo periodo, e sostanzialmente su le 780 interviste che abbiamo spettuato con una percentuale 80-20 di maschi femmini e dipendenti e indipendenti, che cosa è venuto fuori? Le prime anticipazioni di quello che, come ricordava lei, saranno un rapporto disponibile a breve. Allora, uno, gli anglosassoni direbbero man first, cioè che cosa è accaduto in questa fase di transizione? Prima gli uomini, sono rientrati prima e di più al lavoro fuori casa, nonostante poi il profilo contrattuale magari fosse, in qualche modo analogo, perché che cosa è successo? È successo che incide tantissimo il tema, che poi è il tema di di oggi, della trasmissione, cioè la conciliazione vita-lavoro, ovvero come il cosiddetto care burden, ovvero i carichi familiari, pesano e incidono sulla partecipazione al lavoro. Perché noi spesso diciamo, scusi, la interrompo Massolo per precisare, questo care burden non è solo la cura dei figli, ma comprendiamo anche, ad esempio, la cura dei genitori, la cura dei congiunti che possono essere bisognosi di assistenza. Da cui deriva il concetto della generazione sandwich, nella quale ci troviamo un po' tutti questi, noi a questo consesso di questa mattina, ritengo, il dottore Sala Cardinali. Assolutamente sì, benvenuti nella generazione sandwich, che comprende tutti, ma prevalentemente le donne, tra i 35 e i 45, fino ai 54 più o meno, in cui proprio effettivamente come un panino, siamo schiacciati dal lavoro di cura e assistenza, figli da un lato, anziani o bisognosi dall'altro, una compressione che a volte è simultanea. E questo avviene solo sul panino femmina, il panino maschio ha una componente, diciamo, ha un effetto diverso. Ma perché è importante questo che lei stava ricordando? Perché il care burden e quindi i carichi familiari sono uno dei fattori che determinano l'attuale configurazione nel mercato del lavoro. Perché noi non dimentichiamoci che siamo comunque un paese che ha il tasso di occupazione femminile più basso in assoluto, ma siamo anche l'ultimo paese per tasso di fecondità. E nonostante questo quadro quasi drammatico, la presenza dei carichi familiari continua ad avere un impatto dirompente sul lavoro delle donne. Se a livello nazionale, sia come conferma la nostra ricerca, vi dicevo, se in una fase di transizione, laddove c'è una possibilità di scelta all'interno della coppia, dell'ordine del rientro al lavoro, noi abbiamo verificato sui rispondenti che molto spesso l'ordine di chi rientra prima è il risultato di un accordo familiare. E questo accordo familiare, ci dicono le intervistate... Voi in realtà utilizzate il concetto dell'accordo con il partner, che secondo me è ancora più sottile. Esatto, perché diciamo che da un punto di vista proprio metodologico, noi abbiamo intervistato sia uomini che donne, facendo rispondere a loro su quello che è il loro vissuto personale e su quello che è il loro vissuto di coppia. Quindi abbiamo incrociato effettivamente come la percezione di uomini e donne rispetto a questo tema e il vissuto di uomini e donne rispetto a questo tema in questo periodo di transizione si stia sviluppando. E purtroppo da questi incroci è venuto fuori che i risultati relativi sia ai rispondenti maschi che ai partner maschi sono similari, idem per la questione diciamo di genere femminile. E questo che vuol dire? Come dicevo, insomma, nel momento in cui c'è da fare una scelta, chi ritorna a lavorare fuori casa e chi resta a casa ad occuparsi del carico familiare uno o plurimo come vogliamo definirlo, sono prevalentemente le donne. C'è anche un altro grande convitato di pietra in questa conversazione, dottoressa Cardinali, le do l'assist per continuare dopo la nostra pausa che anche lo stipendio, se ce n'è uno che pesa di più è quello che naturalmente ha la prevalenza. Anche chi torna al lavoro è quello che guadagna di più e guarda caso un po' chi è quasi sempre. Non capisco perché mi guardi così fissamente. Adesso faremo subito una verifica e parliamo con l'ufficio personale. Intanto saluto, chiedo un attimo di pazienza anche al dottore Alessandro Rizzo che è pure in collegamento con noi, ricercatore Inap anche lui, lo sentiremo nella seconda parte, nell'ultima parte della trasmissione, prima c'è il traffico. Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non intasate la tangenziale con le vostre macchine. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Strade in diretta. Un rinnovato saluto dalla nostra redazione per lavori si procede in colonnati a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Bologna e tra Grotta Mare e Roseto degli Abruzzi verso Taranto. Code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno nei pressi di San Mignato Basso verso Firenze. Si rallenta con code a tratti per lavori sulla 26 Genova-Gravelona-Tocce tra Ovada e il Bivia-10 nelle due direzioni. Sulla 9 Milano-Como code per lavori ancora tra Lago di Como e Como-Monte-Olimpino in direzione Milano e verso Chiasso tra la barriera di Como-Grandate e Como-Monte-Olimpino. Per ora è tutto Strade in diretta torna tra un'ora più tardi. Stiamo parlando di conciliazione vita-lavoro con Inap perché è lo spazio Parliamo di Lavoro con Inap l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche e ne stiamo ragionando basandoci su due ricerche che ancora non sono concluse quindi vi stiamo anche dando insomma delle indicazioni in anteprima. Ci aiutano la responsabile di un gruppo di ricerca proprio sulle prospettive di genere la dottoressa Valentina Cardinali collegato con noi gli do il benvenuto e gli chiedo ancora un attimo di pazienza il dottor Alessandro Rizzo oppure ricercatore Inap sempre nella struttura Lavoro e Professioni buongiorno dottor Rizzo grazie della sua pazienza. Buongiorno d'accordo aspettoso iniziosamente d'altra parte anche per galanteria visto che stiamo parlando di conciliazione vita lavoro almeno un po' di galanteria quindi la precedenza alle donne è dovuta però mi interessava riprendere Deborah questo spunto che tu hai dato proprio in chiusura le dinamiche retributive continuano a essere spostate a favore degli uomini ma questo dottoressa Cardinali perché c'è un problema normativo abbiamo bisogno di qualche ulteriore spinta restyling di leggi di applicativi normativi e qualcosa del genere? assolutamente no noi siamo un paese in prima linea per quanto riguarda l'apparato normativo nello specifico dei differenziali retributivi di genere è un tema che ci porterebbe lontano lontanissimo però ha una sua attinenza con il tema della conciliazione vita lavoro il differenziale retributivo si forma in tante parti della vita professionale per cui non basta una legge che dice non bisogna effettuare disparità retributiva perché la legge non serve bisogna andare a vedere le dinamiche molto spesso in che modo la conciliazione vita lavoro squilibrata diciamo così tra uomini e donne incide poi sullo stipendio sulla retribuzione finale incide perché si sa che statisticamente le donne lavorano meno ore e molto probabilmente anche per esigenze di conciliazione quindi meno ore lavorate meno monte salariale queste meno lavorate non derivano solamente dai tanti contratti part time ma anche dal semplice fatto che nell'orario di lavoro fanno meno straordinari e hanno meno permanenza al lavoro perché le esigenze di conciliazione che culturalmente e organizzativamente sono ancora a carico prevalentemente femminile non premiano quel concetto di fedeltà aziendale legata alla presenza che è ancora troppo tipico di una cultura organizzativa come la nostra per cui sostanzialmente rivedere in prospettiva il concetto di conciliazione ragionare seriamente sul tema della condivisione non solo da un punto di vista proprio culturale ma da un punto di vista di misure e di politiche potrebbe portarci un passo in avanti per risolvere sia i problemi di partecipazione al mercato del lavoro delle donne quindi più occupazione sia per una più equa distribuzione reddituale salariale da questo punto di vista sia molto probabilmente anche una migliore qualità della vita sociale rispetto a una divisione più paritaria Dottoressa Cardinali per concludere con un flash se ce la facciamo queste tematiche ci piacciono torneremo ad invitarla molto volentieri lo smart working che diventasse strutturale finirà questa emergenza prima o poi anche questo strumento è stato utilizzato in regime di emergenza diciamo così diventasse strutturale come prassi di rapporto di lavoro consolidata potrebbe contribuire a livellare definitivamente i livelli degli stipendi? Ci vuole tutta una riflessione molto seria e molto non affidata agli slogan rispetto a questo tema che è una questione importante rispetto a quello che stiamo trattando oggi ad esempio il tema della conciliazione vita lavoro la sconfitta più grande sarebbe immaginare un'adozione al regime dello smart working come strumento di conciliazione perché sarebbe l'immensima gabbia e segregazione per le donne che si ritroverebbero di nuovo ad assumere l'onere che già hanno del lavoro non retribuito in più all'interno di un orario di lavoro che non esercitano neanche in ufficio ma dentro la propria abitazione quindi ci vuole molta attenzione rispetto a far passare il messaggio giusto lo smart working può essere una grande prospettiva da un punto di vista per migliorare l'organizzazione per migliorare il management per qualità e non per diciamo per computato sulla semplice presenza in ufficio ma attenzione a non immaginarlo come una soluzione facile che rilasci di nuovo la divisione del lavoro di cura quindi a carico delle donne e non distingua più tra retribuito e non retribuito sarebbe un fallimento proprio delle politiche economiche di questo paese allora chiudiamo con un'altra ricerca Deborah perché la ricerca curata da dottoressa Cardinali è il lavoro di uomini e donne in tempo di covid una prospettiva di genere prospettiva che abbiamo visto non essere purtroppo così rosea un'altra ricerca invece le polisi di contrasto all'emergenza e di sostegno alla ripresa una prospettiva di genere ma la cosa interessante è che è in chiave europea quindi dottor Rizzo da questo confronto che è tuttora in corso cosa sta emergendo allora sì esatto abbiamo cercato di capire già a partire dalle primissime battute quindi da marzo in poi che cosa appunto i vari paesi all'interno dell'Unione Europea hanno fatto per tentare di contrastare l'emergenza del covid oggi ci concentreremo in particolare su ciò che hanno fatto appunto per la cura dei figli degli anziani e delle persone con disabilità insomma di tutta la platea di persone che si sono trovate sia in casa che lavorando fuori casa a dover fare i conti con le necessità di cura dottorizzo abbiamo solo due minuti le chiedo sintesi con la promessa che la reinvitiamo sicuramente per potercela raccontare nel dettaglio esattamente allora due elementi anzitutto sono le risposte sono state appunto una conferma degli strumenti che già conosciamo per la conciliazione e per la cura questo ovviamente per ragioni di tempo perché si è dovuto rispondere in emergenza e perché per certi versi sono comunque soluzioni consolidate quindi le risposte sono state sostanzialmente congedi la possibilità di avere dei congedi dal lavoro variamente retribuiti una gamma che va dal 60 all'80% della retribuzione questo sia per curare appunto i figli che le persone che si sono trovate appunto ad avere a che fare con la gestione della cura delle persone anziane e delle persone con disabilità ovviamente il panorama europeo è molto diversificato per quanto riguarda i regimi di welfare la cultura di genere di ciascun paese e lo stato delle finanze quindi sostanzialmente abbiamo avuto appunto risposte tempestive e si tratta di capire poi ovviamente che cosa è successo concretamente se queste risposte poi sono state efficaci effettivamente in che misura all'interno dei nuclei familiari quindi nella vita concreta precisissimo grazie allora dottore Alessandro Rizzo visto che la vostra ricerca dovrebbe concludersi più o meno alla fine di novembre noi la prenotiamo già da ora così per raccontarci in dettaglio i risultati d'accordo molto volentieri grazie grazie a Valentina Cardinali ed Alessandro Rizzo ricercatori INAP su delle tematiche che ci stanno molto a cuore così come ci stanno a cuore i mercati finanziari quindi io caro Mauro ti do appuntamento a domani per la consueta puntata settimanale di investire informati sei contento? ci sarò bene a domani e grazie a tutti programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del PONO SPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo in qualità di organismo